Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta spiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì, nelle pene e nell'insulto, ci svingemmo in muto patto, la gran casa... Così, Metello trascorse lontano dalla famiglia il suo trentesimo compleanno e per la seconda volta conobbe la prigione e per la terza volta, il mattino dell'arresto, entrò in una guardina, la stessa carbonaia nella quale era finito adolescente andando in cerca di Betto. Ci trovò dei ladruncoli che assomigliavano a quelli di allora, come il delegato siciliano, i piantoni, il cortile che si intravedeva dall'inferriata. Soltanto non c'era più Michela e lui aveva l'età che in quel tempo doveva avere Chiellini. Ma dove delle finestre danno su un cortile, anche se a livello vi si apre la bocca di lupo di una carbonaia, non può mancare una ragazza che canta da mattina a sera. È bella, è onesta, è sana. Questa cantava una canzone anche più antica che non gli ricordava Michela, ma Napoli e la sua vita di soldato. Sul mare luccica, lastro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Nemmeno le murate erano diverse dal maggio del 98. Le medesime celle, i medesimi insetti che ti divorano e il buriolo e l'afa da non respirare, l'umidità, il gelo non appena avvenne l'autunno. Ma nel camerone dove li avevano riuniti, conclusi gli interrogatori, c'erano degli amici adesso, dei compagni, di idee di lavoro. Ci si intendeva. Oltre a Giannotto c'era Corsiero, che era stato il suo primo maestro nel mestiere e che ora gli insegnava, teoricamente, mancandogli le carte, i giochi di prestigio. E giorno per giorno gli raccontava i tre moschettieri. Quest'uomo di 50 anni aveva gli entusiasmi di un bambino. C'era Friani, l'anarchico, col quale non era andato mai molto d'accordo, ma che al solito, se cominciava a parlare, li lasciava bocca spalancata. Allora ciò che egli sapeva della comune, anche agli anziani riusciva come nuovo. La, socialisti e anarchici erano stati una cosa sola, tutti finiti allo stesso muro. E loro dei gruppi del 21, tanti quanti erano, e già due ne mancavano l'appello, nessuno che si dimostrasse scoraggiato, che non tornerebbe a fare le stesse cose. Avevano difeso se stessi e gli altri in una lotta per un po' di pane. E perché il lavoro, se non secondo il sudore, gli venisse compensato nella misura minima della ragione? Non gli pareva di avere sbagliato. La morte del tedesco non pesava sulla loro coscienza, semmai l'esaltava. Ora che si trovavano carcerati, le famiglie non erano abbandonate. Ogni settimana, dalla camera del lavoro, dalle mutuo soccorso, dalle leghe, gli portavano degli aiuti, una miscea. Ma in ogni famiglia c'erano donne che non si lasciavano abbattere. Gli bastava, a coteste madri e spose, la promessa fatta con persuasione, che una volta liberi, prima di compromettersi di nuovo, doveva nevicare d'agosto, seccarsi il mare, lo spiombi, diventare un carrozziere. Pescetti aveva riunito un collegio d'eccezione. Se si fosse celebrato il processo sarebbe sceso in campo anche Turati. Come aveva parlato per quelli dei fasci siciliani otto anni prima e quattro anni fa, se era trovato in mezzo ai moti avrebbe difeso loro, a costo di tornare lui stesso in galera. E ne era uscito da poco. Parlava difficile, non alla buona, come Pescetti o come Bastiano, ma si finiva per capirlo. E come? Giannotto ricordava un passo del suo discorso dopo la condanna di Barbato, che presa poco diceva La borghesia ha lanciato la sua sfida, l'ha gettata agli oppressi che gemono, l'ha gettata alle organizzazioni che tentano sottrargli agli impedi incomposti per scortarli lungo le vie della saggezza verso una nuova civiltà. Questa sfida persino a raccoglierla quelli a cui è diretta i lavoratori d'Italia firmano con la loro accidia la sentenza che condanna Barbato e compagni. Essi con quella condanna avranno firmato la propria. Nessun agente sarà mai stata nella storia più supina e più vile. Da fuori ricevevano lettere, rispondevano. Ogni mese gli era concessa mezz'ora di parlatorio. A sera, come dei militari consegnati, mettevano insieme le nozioni, le notizie, belle o brutte, e le malignità, le deluzioni. Sui cantieri la vita era tranquilla, coi soliti imprenditori, i soliti assistenti e i soliti caporali. Non tutti del boia in definitiva. Tra Badolati e Madì una differenza c'era, come tra Crispi e Nardini. Il sabato le paghe erano aumentate di sei soldi e di un ventino. Le ferite del pomero, di Duili, del santino, avevano lasciato delle cicatrici che si vedevano appena. Anche Aminte era guarito e aveva potuto finalmente metter su casa e riunire la famiglia. Qualcuno gli aveva dato una mano, forse c'entrava quell'ortolano presso il quale ultimamente sua moglie aveva lavorato. La vedova del decano gli era sopravvissuta di un mese e la tedesca, lei non avendo un aggancio, nulla, era tornata in Germania, a Lipsia, dove il suo fratello lo ospitava. Avrebbe ripresa a farla cameriere in una birreria, magari quella stessa dove Buttori l'aveva conosciuta. Così era finito il suo viaggio in Italia. Badolati le aveva pagato il biglietto del treno per lei e per la bambina. Lotte, che aveva i capelli quasi bianchi come una vecchia e diceva «Ja, sì, o bitte, scusi». Olindo, infine, da un po' di tempo mancava sul lavoro. Quei manovali di Contea e di Londra che rientravano in famiglia una volta alla settimana dicevano che era in fondo di letto bianco come la cera, ma di questo, per timor di dispiacere a Metello, non ne parlavano mai nel camerone. Piuttosto, dopo che Giannotto ci aveva alluso un po', tutti lo tormentavano, chiedendogli come era andata a finire la sua relazione con la bellidina. Un rospo simile a Nita non l'avrebbe digerito tanta la leggera. Forse che Ersilia gli voleva molto bene, di quanto non ne volesse a Nita a suo marito? Era più intelligente, Metello si diceva, era più moderna e sapeva capire. Ora, dopo avere ogni volta anticipato col pensiero il giorno, che gli verrebbe liberato, piuttosto che dei sentimenti si partecipavano dei fatti, si scrivevano di Libero, dei fiori, dei coniugi lombardi che appena di ritorno dal mare avevano sgomberato, e dei nuovi pigionali, una famiglia in cui non ci sono sposine, gli scrive Versilia. Ella lo vedeva una volta al mese in parlatorio e ogni giorno, come quattro anni prima, gli portava al pranzo dentro il tovagliolo legato per le cocche. C'erano adesso abbastanza sale, sulla scaloppa e nel minestrone. Fammi più spesso quello di fagioli, egli le diceva, e metteci la pasta tagliata corta, sai, le chioccioline. Piano, cavaliere, ella gli rispondeva, qui non si naviga nell'oro, è una stagione morta per i fiori. Adelaide Eroini mi dà sì delle ordinazioni, ma non come d'estate. I pranzi che ti portavo a luglio, ora a settembre non te li posso più portare. E la signora Lorena ci ha chiuso il borsellino, tanto a me che ad Annita, Giannotto lo deve di già sapere, domanda, glielo le sentirai. Anche, egli la informava dei suoi pensieri e ciò che le taceva, siccome le sue lettere andavano vistate, le allusioni, i giochi di parole, ella non faticava a spiegarseli. Non avrei mai immaginato di tornare così presto tra queste mura, ma ora è molto diverso da quattro anni fa, sono io diverso, ossia, sono anch'io la medesima persona, ma ho qualche anno di più. Sono innocente come allora, ma mi sento più sicuro. Quando rispondo al giudice, la mia innocenza gliela so spiegare. Peccato tu non abbia studiato, mi ha detto nell'ultimo interrogatorio. Ho studiato sui ponti, gli ho risposto, sapesse quanto ci si impara. È la verità, mettere un mattone sopra l'altro, calibrato, pareggiare la calcina, dare l'intonaco, stuccare, sembra facile, provaci. Diventa facile, quando si comincia a capirne il modo, come in tutte le cose, e qui siamo tra amici, tra muratori, se uno non è aggiornato, gli si spiega. Ma i miei pensieri più belli, le scrisse quel settembre, riguardano te e li tengo segreti. Sono passati cinque anni, e se nel frattempo ho fatto centro su qualcosa, è perché c'eri te. Tu conosci il mio mestiere, io il mio, e la gli rispose. So fare i fiori, so fare la treccia, volendo saprei anche mettere in prova un vestito, ma non gli do troppa importanza, se no mi ci sperdo. Io ambirei vivere tranquilla, tu, libero ed io, magari anche un altro figlio, se dovesse venire, mi basterebbe un pezzo di pane e un gocciolo di vino. Ma so che non è possibile, perciò ti do ragione. Però, te l'ho detto un'altra volta, tu non mi devi spaventare, e quando mi scrivi, non mi trattare come una fidanzata. Non vorrei che dipendesse dal fatto che ti trovi l'inchiuso tra coteste mura. Succede, vedi, che io non sono brava a contraccambiare, sto qui da un'ora a mordere il cannuccio della penna. Se ti scrivessi, mettello mio come t'amo, ti sembrerebbe di pigliare in giro te, e di pigliarmi in giro io. Ho chiesto aiuto a libero. Il babbo vorrebbe delle paroline che gli scriviamo? Sai cosa mi ha risposto? Poltalallo, sogna sempre il cavallo addondolo. glielo avevo promesso, gliel'aveva promesso quella persona. Bisogna proprio accontentarlo per la Befana. Ci mancano più di due mesi. Tu sarai tornato. Pescetti, l'altra sera ci giurava anche del buono. Tutti sono di questo parere. Andremo insieme a comprarmelo la vigilia, il 5 gennaio. Ti dice nulla questa data? Che son passati quasi tre anni, e mi sembra ieri, Versilia. Ora mi accorgo di non avere mantenuto la promessa che ti fece entrando nel caffè di piazza a Piatellina, e che più ti tiri indietro, più c'è qualcosa che ti riporta in prima linea. Ma ad ora in avanti, ti prometto, ti... lo so, non vuoi che giuri. Verso la fine di settembre, Orindo mandò sue notizie, attraverso un'infermiera che conosce Versilia. E' all'ospedale, e la scrisse a metello. Gli è scoppiata l'etisia. Vallo a trovare, portagli qualcosa, digli che né io né nessuno di quelli che sono qui, coviamo del rancore, agito secondo il suo carattere. Ci sono tornata ieri, c'ero di già stata, aveva taciuto, per vedere come la pigliavi, e ridotto male, povero lindo, a stargli mezz'ora vicino, schianta il cuore, parla di te come di un padre eterno, debbo essere proprio io a fargli la tara. A voce in parlatorio gli disse, non te l'ho scritto, perché poteva capitare che la lettera andasse in mano ai tuoi compagni, ma Olindo non era segnato affatto. Dà la colpa a quelli che lo picchiarono di avergli spaccato i polmoni. Non è vero, lo so, era di già malato quando tornò dal Belgio, ma certo, quelle botte non gli dovettero giovare. Comunque, è avvelenato, forse ce l'ha anche con te. Ma davanti a me non fa che dire, mettello, mettello, ma poi dietro, chissà. Ora, ho da riferirti una cattiva notizia, me l'ha data Olindo, è naturale. Là, in Belgio, 10 agosto, è morta mamma isolina. Nel giorno e nella notte di poi, egli non riuscì a parlare con i suoi compagni né a dormire. solo nel buio e nel tanfo del Camerone, gli si inumidirono gli occhi, più che se fosse morta sua madre. Era stata mamma isolina, la sua vera madre, e per contrasto, non pensava di essere né ingiusto, né crudele. sentì accrescersi la sua avversione per Olindo. Lo avrebbe voluto saper guarito possibilmente, ma lontano non rivederlo mai. Dopo aver cercato di spiegare il proprio stato d'animo, questo mi ha fatto ricordare il passato, scrisse a Dersilia. Confusamente le partecipava il suo sgomento insieme e la sua forza morale. Da quando ero bambino e incominciava a capire fino ad oggi qui dove mi trovo, le persone che più mi hanno giovato e con le quali speravo di fare un lungo pezzo di strada, ora questo, ora quello, mi sono scappate davanti agli occhi senza sapere come. Non dico soltanto i genitori che non ho conosciuto e non soltanto mamma isolina, ma Betto e poi Castelli e poi tuo padre e il Chiellini che morì a Portolongone, dicono di polmonite e comunque anche lui solo come un cane. Che aiuto gli ho potuto dare? Nessuno. Cosa ho creduto ad imparare? A non espormi, a non conoscere nemmeno di vista la prigione e ci sono finito due volte diritto come un fuso. Perché ho stabilito, concludeva, che il passato bisogna scordarselo. Ce lo portiamo dietro ma non ci deve pesare. I morti che ci hanno fatto del bene ci ricompensano guardando in faccia i vivi. ci si dovrebbe semmai più ricordare dei loro sbagli che delle loro cose indovinate e coi vivi che siamo alle prese e con loro ti devi esporre per forza. Primo ultimo ci troviamo tutti sulla stessa barricata. poi le scrisse ma a volte fa certi scherzi la memoria ricordi cose di vent'anni fa e non riesci a mettere insieme quelle che ti sono capitate ieri oppure crolla una casa e tu rammenti quei passerotti che sono volati via. Tutta la mia vita è venuta a far massa durante il mese e mezzo dello sciopero fino all'ultimo giorno sciagurato e dico testa ultimo giorno una circostanza che più mi balza all'occhio è la meno importanza l'importante anzi non c'entra proprio e la donna che incontrai in piazza dell'Annunziata mentre mi dirigeva alla fortezza lei doveva avere lasciato una creatura alla ruota non la vidi nemmeno la senti soltanto scappare e dire addio mimmino ma il rumore di quei tacchi e quelle parole mi stanno conficcati in testa più degli spazi più della ferita del tedesco più di come era ridotto il decano cascato a testa in giù più degli occhi del piccolo renzoni c'è una spiegazione? non c'è c'è ella gli rispose sono i casi della vita e tu hai 30 anni e sei d'animo buono ma c'entra anche la tua vanità non dubitare al momento opportuno sei capace non di far del male no ma di essere egoista è spensierato e come? qualche settimana più tardi il giorno Don Nissanti spalanca gli occhi e la gli scrisse stammi a sentire stamani facevo il bagno a libero quando ha suonato il postino c'era una lettera veniva di città ma non era detto chi spediva ed era indirizzata a te col tuo nome la strada il numero precisi una calligrafia tutta sdraiata una persona istruita da prima ho pensato a lei all'esosa che mi volesse fare un dispetto poi mi sono ricordata di quando per le feste ci mandava cartolini di auguri da piano a piano che carina scriveva peggio di me non poteva essere lei ma non ti voglio fare stare con l'animo sospeso più di quanto non sono rimasta io con quella busta in mano alla fine l'ho aperta e ci ho trovato dentro cento lire cotesto foglio da cento e non un rigo nulla avranno voluto scherzare può esistere gente tanta infame ora esco vado dal fornaio anche se il biglietto è falso non mi denuncerà sono buone metello sono cento lire di quelle vere ho pagato il debito col fornaio per il resto come mi devo comportare non abbiamo mai fatto nessuna buona azione che meritasse una riconoscenza di questo genere e poi perché così coperta esistono i maghi esistono le fate illuminami tu sulla busta c'era il tuo nome non lo so Ersilia nemmeno io mi so capacitare si vede che a questo mondo c'è più bontà di quello che si crede non ti lambiccare il cervello piglia coteste cento lire come un regalo delle fate d'un uomo buono d'una befana anticipata lo considero un prestito ella gli rispose da qualunque parte venga ho pagato i debiti più urgenti la rata della strozzina al calzolaio ho dato una spinta dannita mi sono rimaste venti lire domani Adelaide mi salda il lavoro di una settimana siamo ricchi metello quando torni potrai farti un pastrano grazie a quel mago o a quella fata e poi novembre già si appannavano i vetri alle finestre a sera calava la nebbia dalle colline ella si recò a trovarli in parlatorio e questa volta non gli poté più nascondere di aspettare un bambino te lo dicevo che di questo sciopero ce ne saremo ricordati sono entrata nel sesto mese non te l'avevo fatto sapere perché tu stessi più tranquillo è una buona gravidanza ti assicuro anche battere il mazzuolo non mi costa fatica non mi è nemmeno mai non mi si è non mi si è nemmeno mai gonfiata la noce del piede e lui non seppe fare altro che prenderle le mani e baciarla sulla gota come lo chiameremo le scrisse poi col nome di Betto o col nome di tuo padre chissà perché non ci si pose questo pensiero quando si trattò di dare un nome a Libero non ci si pensò perché ci trovammo subito d'accordo Libero era un nome che pareva un programma te ne sei scordato ora per questo nuovo quinto o Betto come vorrai forse Betto è anche meglio ma se invece è una bambina beh per una bambina sempre che a te non dispiace un bel nome potrebbe essere Viola perché mi dovrebbe dispiacere anzi ci ho di già fatto le orecchie se i segni che dicono sono veri si tratterà proprio di una bambina e poi non era il nome di quella maestra che conoscessi tanti anni fa quando ancora avevi da fare il soldato sì ma non ci mettere dell'ironia non l'ho più rivista oggi avrà passato i cinquant'anni ho riflettuto e mi sono detto che i maghi esistono esistono le fate ma si tratta sempre di persone non può essere stata che lei a mandarci quei quattrini e andarla a cercare per ringraziarla dal momento che lei ha voluto restare nel passato non mi sembra sia il caso non ti parrebbe una gratitudine un po' fuori dall'ordinario e la gli chiese comunque ne riparleremo se davvero se sarà davvero una bambina gli scriveva ora che suo fratello era venuto in licenza che avevano fatto un pranzo a casa della madre in San Frediano che libero era sempre più innamorato della piccola Iole uno splendore di biondo va di già a scuola era il 12 dicembre del 1902 l'indomani li avrebbero liberati da un'ora all'altra senza preavviso per evitare che all'uscita del carcere si organizzassero delle manifestazioni 19 quanti erano 4 e 6 per volta si abbracciarono e si strinsero le mani domattina ci si trova sui cantieri ci sarà lavoro ce lo daranno speriamo da badolati forse di sicuro e da madì da taiuti si tratterà di vedere buonanotte figlioli anche questa è passata buonanotte disse corsiero poteva andare peggio buonanotte a domani buona erano le 5 di sera i lampioni erano già accesi la nebbia sembrava fasciare la città nel giro delle colline e arrestarsi all'altezza dei viali sopra le vie le piazze il carcere le case il cielo era pulito e compatto con tutte le stelle e tre quarti di luna giannotto uscito coi primi dette una voce a ersiglia passando da via dell'olivo poco lontano dalle murate sulla strada per raggiungere lungarni e san frediano quando metterlo varco al portone lei stava sul marciachiede di rimpetto col bambino in braccio e cappelli belli pettinati uno scialle rosa sulle spalle il ventre di sette mesi che la sformava e non di meno lei leggiadriva in qualche modo egli baciò libero sulla guancia baciò lei le tolse il bambino e lei lo prese a braccetto percorsono in silenzio tuttavia a ghibellina ed entrarono nel caffè del canto alle rondini lei prese un corretto lui una grappa lei cavò di tasca un savoiardo e lo mise in mano al bambino senza volere erano tornati a trovarsi di fronte al grande specchio incorniciato d'oro di una reclame e si sorrisero la sacra famiglia e gli disse su ella disse non bestemmiare ma da ora in avanti da ora in avanti cosa